Sono in corso i mandati di pagamento da parte dei dipartimenti regionali a seguito del completamento del riaccertamento parziale sui residui passivi alla data del 31 dicembre dello scorso anno. I dipartimenti regionali interessati possono così liquidare le partite contabili di propria competenza per effetto del decreto emesso lo scorso 14 giugno dalla ragioniera generale che riguarda parte dei fondi extra regionali. Il riaccertamento dei fondi regionali è stato completato da tempo e questo il quadro emerso nel corso dell'incontro convocato a Palazzo d'Orleans dal presidente della regione siciliana Renato Schifani fra il ragioniere generale Ignazio Tozzo e i direttori generali dei dipartimenti interessati all'appagamento dei debiti che scaturiscono dal riaccertamento del residuo accumulati entro dicembre 2022. La ragioneria generale della regione siciliana con decreto dello scorso giugno ha reso disponibili, ha detto il presidente Schifani, le somme in pagamento per il riaccertamento parziale dei debiti relativa all'esercizio 2022 per un importo pari a 422 milioni di euro. Somme già disponibili che consentiranno ai dipartimenti interessati di effettuare a stretto giro i mandati di pagamento a favore di imprese creditrici e aziende fornitrici dell'amministrazione regionale in molti settori, dai beni ai servizi e ai lavori. Grazie alla digitalizzazione che stiamo attuando, ha concluso il governatore Schifani, puntiamo a rendere più efficiente e veloce la procedura di riaccertamento dei residui della regione nei prossimi esercizi finanziari. I dipartimenti interessati che stanno emettendo i pagamenti sono la segreteria generale, la programmazione, l'autorità di bacino, i beni culturali, acqua e rifiuti, famiglia, lavoro, infrastrutture, dipartimento regionale tecnico, istruzione, ufficio speciale istruzione, formazione professionale, agricoltura, pesca, turismo, sviluppo rurale e protezione civile.